calignaia 5 agosto 2019 fantastica giornata di mare mare calmo acqua pulita acqua calda tanto sole stava veramente bene c'erano un po di meduse rosse a cipolla di quelle che lasciano il segno e sono molto pericolose e ustionano ma una volta ripulita la baia con il retino è stato possibile fare un bel numero di vasche in su e in giù da lato a lato un saluto ciao a tutti ciao ciao ciao